Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia e con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra l'Astra Sign e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. Rallentamenti ma a causa di materiali dispersi tra Badia e Firenzuola in direzione Firenze. Sempre in A1 si ricorda che stanotte a causa di lavori in orario 22.6 rimarrà chiuso lo svincolo di Firenze Sud per chi proviene da Bologna. Sulle raccordo Siena Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata tra Impruneta, Greve e Inchianti e San Casciano. Chiudiamo con i cantieri della città di Firenze fino al 19 marzo per lavori sulla rete idrica in piazza Taddeo Gaddi la rotatoria rimarrà chiusa nel tratto via Deivanni via Brunzino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!